Il governo è nella pienezza dei suoi poteri, fino a che le camere non saranno sciolte, finché il Presidente della Repubblica non avrà scelto che cosa fare, noi continueremo ad andare avanti. La campagna elettorale più lunga non vi rende più difficile il lavoro? Ma no, non penso, noi andiamo avanti con molta serenità sulle cose che dobbiamo fare. In termini di alleanze, visto che c'è questo sbaramento, vedremo su questo.